Benvenuti amici, io sono Salpimpost e oggi torniamo su Prankster 3D Andiamo a continuare a fare scherzi alla maestra Perché il gioco è stato aggiornato Sono stati aggiunti altri livellini Guardate qua, per un totale di 6 livelli Più 4 livelli bonus Quindi io partirei con i livelli bonus Così vediamo un po' di che... Cioè, che cosa sono? Che dobbiamo fare in questi livelli bonus? Ah, siamo proprio a casa sua Sulla sauna, nel giardino Che è? La faccio cadere... Che devo fare? No, vabbè, mi devo mettere in posizione Stiamo scherzando Allora, aspetta... Ma che cos'è? Ma scusate Ah, quello è giusto Dobbiamo mettere in posizione il bambino Così, perfetto E la facciamo cadere Vabbè, va Allora, vabbè, allora questi sono facilissimi Bonus Andiamo all'altro bonus Dobbiamo semplicemente posizionare il bambino nel modo esatto In modo che possa fare lo scherzetto alla maestra E via Ok Dobbiamo semplicemente trascinare le mani Questa la mettiamo qua E questa la mettiamo qua E spingi la maestra Via E la fai cadere Anzi, la fai rotolare E poi nel fango Tipo Shrek Va bene così Allora, andiamo all'ultimo Terzo Anzi, terzo a livello bonus Vediamo un po' Eh, qua vi mettete a ballare Che faccio Che faccio vincere la maestra Ah, li dobbiamo uccidere Ah, ok Dobbiamo evitare che la barra scenda Attenzione, attenzione La maestra l'ammazziamo Non l'ho capito Niente, semplicemente dobbiamo fare così Fino a quando Il tempo scade Dobbiamo cercare di non far scendere le barre Vabbè, io avessi tutti questi soldi che fa Li lanciare la maestra Scusate A parte che Il vicino lì è ricco Francis è ricco Quindi non ha bisogno di tutti questi soldi Ce l'ho fatta L'ho completato Andiamo all'ultimo Vabbè, i livelli bonus Effettivamente sono molto, molto bonus Andiamo all'ultimo Sciocca Sciocchiamo la maestra E via Che dici Io avevo cliccato a cento Quello se tu me la prendi mezz'ora dopo Sciocca E via Oh, perfetto Ah, quindi io mantengo premuto E poi al centro lo lascio Ecco perché Perfect shot Shock, quantomeno E via di perfect shock Maestra, ti ucciderò Sappilo Perfect shock Sappilo maestra Che ti faccio diventare più intelligente Ok Ok, e via Aspetta, tengo premuto E via Morta, morta L'abbiamo tolta dalle scatole Solo che Andando al livello 35 La maestra è resuscita Quindi, va bene così Che vai in bici Maestra non andare in bici Che cicali E ti rompi le ginocchia Vai su Parcheggia qui Adesso te la rubo Come minimo Come minimo te la rubo O ti buco le ruote Allora Sabota E infatti Sabotiamogli il recla Burro d'arachidi O jelly Andiamo di jelly Va Jelly Vediamo un po' che fa Ecco Quindi Poi si siete Si appiccica Al sellino No Via Monta su Maestra L'ha visto mi sa L'ha visto Se la ridacchia Non ci salgo Non ci salgo Se è un brutto Ramoscellotto L'ha visto Quindi evitiamo di farglielo vedere Allora Andiamoci di burro d'arachidi Maestra Per favore Non vedere i miei sabotaggi Avanti su Allora Burro d'arachidi Vediamo un po' Eh Questo Non lo vedi Perché Perché Questo non lo vede pure Scusate Questo non lo vede E' ciecata Maestra Eh What's this L'ha pulito Ah ecco Perché si sporca Con il jelly No Non si sporca Giustamente Quindi Vabbè Abbiamo fatto sporcare la maestra Uno scogliattolino Che carino Maestra Lascia solo scogliattolino Ah Sta andando a mangiare la maestra Giustamente Allora Replace Hair Rodent Repellent Ma perché Da quando Cammina con i repellenti Per roditore la maestra Allora Succo Andiamoci di succo Va Oppure aceto Ci vado di succo Nel dubbio Così attiriamo ancora di più Lo scogliattolo Quindi Lo versiamo nella borraccia Con tutta la tranquillità Di sto mondo Tra l'altro Via maestra Vai nel succhino Te lo spruzzi addosso Ecco E lo scogliattolo Sin sino Ancora di più Mi pare ovvio Allora Rodent Warmth Skate Banala Banana Ce n'è di banana Va Via che facciamo scivolare la maestra E adesso Adesso ti spacchi la rotola Boom Fatto Direi che Eh Sono arrivati gli amichetti Scogliattoli La maestra Mangiata da degli Scogliattoli Questa mi mancava Questa mi mancava A posto Avete pranzato Andiamo Che carino sto vestito Però ve lo lascio Perché ho connessione Staccata Andiamo al prossimo Livello 36 Che senti freddo maestra L'inverno ancora Non è arrivato Che senti tutto sto freddo Allora È arrivato Francis Adesso ti scalda Francis Va Non voglio vedere come però Meglio non indagare Meglio Che è Ti scaldo io Ah la febbre Attenzione che Possibile coronavirus Sticky gun O stand gun Eh Io ci andrei di stand gun Allora Stanniamo la maestra Ecco Posa questo Prendi la stand gun Così la elettrifichiamo un pochino Via di stand gun Tutto qui L'abbiamo frizzata Tranquillo Francis Se conoscerai un'altra Sei sfrizzata Ecco Prenditi la mascherina Va Allora Fanny mask Oppure buffi Fanny mask Va Ecco Metti Poggiamo tutto lì Tanto chi se ne frega Fanny mask Alla maestra E così farà La faccia buffissima Guarda Alla da roditore Guardati allo specchio pure Visto che ci sei Tanto sei carina e coccolosa Però se la ridacchia pure lei Va bene così? No Livello fallito Ovviamente No sense Scelte no sense Allora La stand gun funzionava Quindi andiamoci Stand gun Dopodiché ci andremo con i buffi Vediamo che succede Avanti Frizzati maestra Non rompe le scatole Frizzati Che dura mezzo secondo Sta cosa Vabbè Dettagli Andiamoci di Baffi Adesso voglio vedere Francis Se l'amerai ancora Con i buffi messi Sotto la mascherina pure Quindi che fa? Li da prurite Starnutisce? Manco si vedono i buffi Ah adesso si Guardati quanto sei carina E attraente maestra Eh Nuovo look Per la maestra Ma che poverino Francis Poverino Le prende sempre Vabbè Ultimo oggetto Mascherina O un po' di ossigeno Ok quindi Logging gas O helium gas Andiamoci di helium gas No La facciamo un po' Parlare strana La maestra Vai di helium gas Sta gonfiando Si è gonfiata La testa della maestra E svolazza Via No Vabbè Livello completato Andiamo al 37 Che fai karate Maestra Non fare karate È buio Ah non ci vede Non ci vediamo manco noi Sta cercando l'interruttore Ovviamente Allora Sabottiamogli l'interruttore Che gli facciamo Uno scary Oppure un fantasma Scary Andiamoci di scary Va Francis mettiti la maschera Che la spaventa Va Francis non c'è proprio In questo livello E via E c'è la maschera accanto Maestra Quindi Eh Giustamente Dico Avevo una palestra in casa Come fai a non fare box Vabbè Sempre se non è pane e focaccia Ricordate il motto di questo gioco Andiamoci di fantasma Vediamo un po' Fantasma messo lì E quindi che fa Scappa Non lo prendi a pugno Un fantasma Giusto Tra l'altro si vede benissimo Che ho un lenzuolo Però Sempre dettagli Ha paura E scappa E scappa però Dico Dall'altra parte Dovresti scappare Vabbè Ah si avvicina al frigo Per far che And boom Biglie Biglie Così scivoli E ti spacchi sempre Le gengive per terra Biglie E via Frigo Schiacciata dal frigo Lei è sempre viva È un robot Sempre viva Benissimo così Andiamo a livello 38 Vediamo Macchina del caffè Che cos'è sta macchina del caffè Quanto ti è costata? 2000 euro Tutta super automatica Ok Caffè Si va a sedere Per godersi il caffè Adesso io gli taglio Le gambe della sedia Come minimo No Rovignagli il caffè Come? Ci andiamo di accendino Vediamo un po' Glielo riscaldiamo Gli piace di più Secondo me Riscaldato Si brucia le labbra Forse No Gli ho fatto proprio Un fico secco Niente Andiamoci Torcia allora Sempre se non è pane Focaccia Eh 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 Sarà ridacchia pure Vai che adesso Ti ustiono pure le calze Avanti su Blotorce Ok Ecco adesso si Adesso ti brucerai Pure i polpastrelli Si è bruciata la lingua Semplicemente I tavolini non ci servono Buttiamoli giù per terra Porta Va sempre nel bagno Stavolta non scavalca però Doccia Ok Sempre di Blotorce Sembra stupidata Di non la torcia No Andiamoci di gas e nitrogeno qua Ok Congeliamo la doccia Così che non esce acqua No Abbiamo congelato tutto Oppure ti esce il ghiaccio Da lì Ti esce la neve Acqua super congelata Presumo Ecco Si è congelata la maestra Benissimo Benissimo Va bene così Va bene così Andiamo al livello 39 Ecco Franzi Guarda là La maestra è super Cioè fa tutto Sport Musica Eccetera eccetera Scarpetta A shocking note Gli taglio il filo Oppure plug Gli lo plug Gli lo plug Proprio nell'elettricità Diretta E gli fa Ecco Scossa per tutti Anche per il povero Franzi Perché giustamente Frequentando la maestra Gli succede qualcosa Anche a lui Trombone Piantato nel pavimento Ci può stare Ci può stare Ci può stare Allora plug Plug into wall socket Skateboard Oppure rocket Ci vado di rocket E via Di rocket Svolazzate per la stanza Esplodete Cadete per terra Tutti giù per terra Reward Unlocked Abbiamo sbloccato anche il letto Nel dubbio Lo zit Livello completato Andiamo all'ultimo Livello 40 La maestra Tira E Franzi Separa Mi sembra corretto Allora Che facciamo Tiro Glielo roviniamo Ovviamente Back of the net Bomba Così Nel dubbio Noi lanciamo bombe Esplode Franzi Poverino E la maestra è contenta Quindi Evidentemente Non è così E sempre Se non è pane focaccia Accendiamo di boulder Vediamo un po' Un bel sassone Grosso Come una capanna Ti spacchi proprio L'alluce Proprio il piede Tu lo sei rotta Arriva Franzi Giustamente con la carrozzella Con la carrozzina La trasforma Mettila lì Ambulanza Giustamente che arriva Nel parco No Zoom Nos Oh eh Nos O F1 F1 Tires Andiamo di ruota E la formula 1 Però dico Accelera così E ci sarei andato Di nos E invece no Via di formula 1 Povero Franzi Si investito Però lei è contenta Sicuro Infatti Perché la maestra è contenta Quando fa le malefatte E quindi Boulder Pietra Messa lì Ti spacchi sempre il piede Vabbè forza Franzi Lasciala morire lì Che te ne frega Ne troverai un'altra Ragazza che ti ama Tanto lei non manco ti ama Allora E F1 Nos Messo lì Posizione strategica E tattica Accelera come non ma E svolgiamo per tutto Collo Ho fatto collo con la maestra Ottimo Perfetto È morta tra l'altro È morta la maestra Va bene Livelli completati Non ne abbiamo più Gli altri arriveranno Presto Non si Anzi è abbastanza aggiornato Sto gioco Credevo di peggio Va bene ragazzi Come sempre lasciate like E supportare il canale Iscrivetevi al canale E attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Due Theft Wars Ma l'avete chiesto in tantissimi Di riportarlo Eccolo C'è chinatore Eccolo qua Non mi prende Benissimo Sei uccisione di fila Vediamo se c'è qualcuno qua Grazie a tutti